Salve a tutti carissimi cinefili e carissimi cinefili, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, come vi avevo già detto nel video dedicato a Serpico, oggi torno a parlare di Sidney Lumet e lo faccio con il suo film d'esordio cinematografico, che è La parola ai giurati del 1957. Farò spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla, in anticipo tornate in un secondo momento. Allora, La parola ai giurati, Twelve Angry Men, come recita il titolo originale, film d'esordio di Sidney Lumet. Lui già aveva lavorato, aveva già iniziato a lavorare nel mondo dell'audiovisivo per la televisione, ma poi nel 1957 decide, il grande cineasta, di esordire al cinema e porta in scena un dramma giudiziario che potrebbe essere tranquillamente una pissa teatrale che vede una giuria composta da dodici uomini che deve giudicare un caso di omicidio, deve appunto esprimere un verdetto su questa vicenda, un ragazzo è stato accusato di aver ucciso il proprio padre e alla fine del processo questi dodici giurati si rinchiudono in camera di consiglio per deliberare, guilty or not guilty, colpevole o non colpevole. Questo è il dilemma. E la posta in gioco è altissima perché nel caso in cui venga riconosciuta la colpevolezza dell'imputato questo sarà condannato a morte, sarà condannato a friggere sulla sede elettrica. Quindi una questione molto molto importante, direi proprio di importanza vitale. E quindi la storia è tutta questa. Dodici persone che si rinchiudono in camera di consiglio devono decidere la sorte di un imputato. Punto. Quindi una storia molto molto semplice che però ha al suo interno tantissimi significati. Diciamo che in questo film, come già era stato visto in Serpico, emerge tutta la carica idealistica di Sidney Lumet. Ancora una volta, come abbiamo visto nel film Serpico, c'è una persona che si erge, che fa un'obiezione, che si distingue dagli altri e pone un dubbio. Comunque dissente da quello che è il parere, da quello che è il comportamento generale che può instaurarsi per varie ragioni, non importa che tutte le persone che adottano dei comportamenti siano convinti, basta essere anche indifferenti, basta essere anche, come dire, non dei veri assertori di quel modo di fare, di quel modo di pensare, ma basta essere anche genericamente accondiscendenti e abbiamo una persona, uno, che pone dei dubbi e che piano piano comincia a far ragionare gli altri. Ed è il caso del giurato interpretato da Henry Fonda, che nel momento in cui si va a fare la votazione per chi è a favore della colpevolezza e chi invece è a favore dell'innocenza, tutti quanti, undici giurati su dodici, votano per la colpevolezza, mentre invece il giurato interpretato da Henry Fonda dice no, io non sono convinto, perché noi lo dobbiamo condannare al di là, al di sopra del ragionevole dubbio. Se non abbiamo dei ragionevoli dubbi, allora votiamo per la condanna, ma se ci sono dei dubbi, assolutamente no, bisogna discuterne. Henry Fonda ha dei dubbi e li espone. E lì piano piano lui, che è una sorta di novello Socrate, dice infatti di non sapere in realtà se il ragazzo effettivamente è colpevole o innocente, però ci sono delle cose che non lo hanno convinto. E lui, con i suoi ragionamenti, con i suoi dubbi, piano piano, si mette a minare tutto l'impianto accusatorio e mina anche le certezze più o meno ferme dei vari giurati che avevano inizialmente abbastanza, convintamente. C'è già dall'inizio qualcuno che è traballante, qualcuno che è generico, perché comunque questa giuria è diciamo un po' la rappresentazione di quella che è la società statunitense. All'interno troviamo di tutto. Troviamo chi è un po' più convinto della colpevolezza perché è animato da pregiudizi, chi invece è animato da un ragionamento più lucido, chi invece è animato da interessi immediati e futili come nel caso del giurato interpretato da Jack Warden, chi invece ha dei pregiudizi che però hanno origine diciamo più personale, per motivazioni personali, conflittuali, privati, è il caso del giurato interpretato da Lee Jacob, e poi ci sono gli altri che hanno diciamo più che altro delle sensazioni insomma sono molto superficiali nell'esporre le loro opinioni e poi però piano piano grazie alla logica che viene messa in atto grazie allo spirito critico che viene dimostrato da Rifonda piano piano tutti quanti volta dopo volta si convincono che effettivamente ci sono dei dubbi ragionevoli in questa vicenda e che quindi non si può condannare a morte una persona sulla base di un impianto accusatorio che si rivela essere fragilissimo e quindi questa questa giuria è la metafora della società statunitense e i conflitti le dinamiche che sono perfettamente descritte all'interno all'interno di questa di questa stanza sono le dinamiche tipiche di una società democratica di una società democratica ma soprattutto viva perché non è vero che nella democrazia non c'è lo scontro lo scontro c'è ed è anche aspro il confronto continuo che c'è fra Henry Fonda e Lee Jacob o per esempio Ed Begley che è il giurato animato da un ottuso pregiudizio nei confronti dei poveri perché l'imputato è un ragazzo che vive nei quartieri popolari è un ragazzo che appunto non fa una vita agiata ha avuto a che fare anche con con la criminalità ha avuto a che fare anche con la violenza del padre perché c'è anche questo aspetto c'è un rapporto conflittuale che emerge tra la vittima e l'accusato ecco ci sono questi momenti tanti momenti di confronto di scontro anche molto molto violento fra Fonda e i più convinti assertori della colpevolezza e poi piano piano anche gli altri che effettivamente concordano con le argomentazioni del giurato interpretato da Henry Fonda anche loro poi piano piano si mettono sempre più in dubbio le ragioni le supposte ragioni insomma della parte che vuole la colpevolezza e si arriva quasi alle mani anche quindi è diciamo la rappresentazione di una società dove i conflitti non sono assolutamente mascherati esplodono ma sono declinati secondo la logica della democrazia dove la prevaricazione comunque non viene accettata ci sono momenti in cui per esempio il giurato interpretato da Lee Jacob arriva quasi ad aggredire fisicamente Henry Fonda e diciamo che quello è un po' la rappresentazione quella è un po' la rappresentazione della tentazione autoritaria che comunque sta all'interno della società stranitanzia ma di qualsiasi società democratica queste spinte verso l'autoritarismo verso la prevaricazione non è che sono sopite nel momento in cui si instaura la religione democratica no quelle spinte ci sono però c'è anche il resto delle persone che impedisce che diciamo il diritto venga fatto valere con la forza e quindi questa spinta alla prevaricazione viene subito contenuta viene sedata a beneficio chiaramente dell'utilizzo della legittima critica che è che ha a che fare con la dialettica a che fare con la parola e con il ragionamento quindi abbiamo in Sidney Lumet che ha diretto questo film che è stato scritto da Reginald Rose abbiamo quindi chiaramente un elogio della della democrazia e delle regole che appunto definiscono una società democratica dove tutti hanno diritto alla propria opinione dove tutti sono liberi di pensarla come vogliono ma dove il conflitto deve essere diciamo ricondotto ad una dimensione che esclude la violenza quindi qui si vede chiaramente l'idealismo di Sidney Lumet ma lo vediamo anche quando si pone l'accento sulla questione del dubbio il dubbio diciamo è un po' il fulcro di tutto il film non possiamo condannarlo così si dice all'interno di questa giuria non possiamo condannarlo se c'è il ragionevole dubbio questo è un principio fondamentale che si cerca di far rispettare all'interno di questa giuria e noi vediamo come in questa in questo microcosmo in questa rappresentazione in scala della società sottonitense il dubbio venga in realtà utilizzato in due modi da una parte abbiamo Henry Fonda che lo utilizza diciamo nel modo giusto cioè se c'è un ragionevole dubbio io non posso condannarti dall'altra parte invece tra gli assertori della condanna c'è il pregiudizio quindi a prescindere se è colpevole perché sei povero perché sei disagiato perché sei sei giovane quindi c'è anche un po' l'idea che fa parte del senso comune questi giovani d'oggi sono non hanno rispetto eccetera eccetera ma c'è anche la questione riguardante appunto il dubbio distorto cioè questo qui viene dai bassi fondi nel dubbio lo condanniamo perché perché viene dai bassi fondi essendo un poveraccio è giusto condannarlo comunque a prescindere quindi abbiamo proprio come dire il lato socialmente razzista di questo dubbio distorto che anima appunto le persone che sono che sono mosse da pregiudizi assurdi ottusi e questa e questa storia questa questione del dubbio ha a che fare anche proprio con il contesto storico e sociale in cui viene realizzato questo film cosa significa noi non possiamo come spesso come spesso vi dico noi non possiamo prescindere dal contesto storico in cui viene realizzato un film o vari film e questo più che mai è un film che viene legato al contesto storico degli Stati Uniti degli anni 50 perché perché tra il 50 e il 55 o diciamo tra il 49 e il 55 gli Stati Uniti hanno vissuto la fase del maccartismo cos'è stato il maccartismo il maccartismo è stato un periodo caratterizzato da da un anticomunismo estremamente feroce si è parlato appunto di caccia alle streghe quindi di di questo clima del sospetto che si è restaurato nei confronti di chi faceva parte del partito comunista o di chi era sospettato di avere delle simpatie filocomuniste e quindi si è appunto scatenata questa caccia alle streghe venivano fatte liste nere c'erano commissioni di inchiesta presedute dallo stesso senatore Joseph McCarthy senatore che è stato il principale artefice di questa ondata di isteria anticomunista poi in seguito si è scoperto che lui dietro questo suo idealismo anticomunista esasperato in realtà c'erano questioni legate alla sua carriera all'opportunismo politico vabbè ma questo sono altre cose insomma tornando a parlare del maccartismo questa questa psicosi che si era scatenata visto che siamo nell'epoca della guerra fredda poi tra il 50 e il 53 abbiamo avuto la guerra di Corea nella sua fase più più violenta nella sua fase più incandescente dove gli Stati Uniti sono entrati direttamente nella nella guerra contro i nordcoreani e poi anche la Cina e l'Unione Sovietica ha mandato i suoi piloti quindi insomma c'è stato un momento di scontro anche lì perché poi pure in Europa pure in altre zone del mondo c'era uno scontro armato fra queste fra queste potenze o comunque fra questi blocchi ed è l'epoca della della teoria del contenimento teoria che è stata elaborata e messa in atto dal presidente Harry Truman il successore di Roosevelt dovunque c'è il pericolo dell'espansione dell'Unione Sovietica o del comunismo lì gli Stati Uniti e il blocco occidentale devono intervenire per appunto contenere questa pericolosa espansione e tutto questo ha avuto ovviamente delle ricadute all'interno della società statunitense e le persone sono state colpite nonostante paradossalmente il partito comunista statunitense non era stato messo fuori legge continuava ad essere legale però le persone che venivano sospettate anche solo sospettate c'era il dubbio appunto che loro potessero essere dei sovversivi perché facenti parte del partito comunista o o comunque venivano ritenute se venivano ritenute vicine a quell'area ideologica ecco che finivano nella lista nera ecco che potevano avere dei grossi problemi potevano essere licenziati potevano perdere il lavoro potevano essere anche incarcerati e addirittura se venivi considerato una spia potevi rischiare anche di morire di essere ucciso di essere condannato a morte come nel caso per esempio dei coniugi Rosenberg e in questa epoca bastava appunto il sospetto bastava appunto il dubbio che subito venivi isolato venivi ostracizzato e questa è una cosa che ha riguardato molto per esempio il mondo accademico ma anche il mondo dello spettacolo Hollywood è stata pesantemente colpita da questa ondata di isteria anticomunista ci sono molte persone molti sceneggiatori registi attori che non hanno più potuto lavorare perché non hanno collaborato perché sono stati sospettati di avere dei legami con i comunisti di poter essere dei sovversivi per esempio un nome a caso Charlie Chaplin per le sue simpatie per le sue idee politiche è stato gli è stato impedito di ritornare negli Stati Uniti è stato mandato via praticamente da Hollywood e questo ha riguardato tanti altri registi tante altre vicende ecco nel 57 quando viene realizzato la parola ai giurati gli Stati Uniti sono appena usciti da questa fase il senatore McCarty poi politicamente è entrato in un periodo di decadenza giustamente insomma è stato ci si è resi conto insomma negli Stati Uniti si sono resi conto che il il McCartismo era una corrente ideologica che aveva molto a che fare con diciamo il fascismo comunque con la persecuzione arbitraria delle persone sulla base dei loro convincimenti politici quindi qualcosa di illegittimo e la parola ai giurati è un film che esprime esprime questa critica feroce nei confronti nei confronti del McCartismo e nei confronti della cultura del sospetto e nei confronti ovviamente della come dire del distorto uso del dubbio quindi un film che ha al suo interno un messaggio sottotesto politico estremamente forte estremamente potente ma che soprattutto diventa comprensibile se noi inquadriamo storicamente l'opera e poi chiaramente c'è tutto il comparto tecnico c'è la cura estrema dei dettagli un film realizzato veramente ragazzi cioè più che altro qui il budget è stato speso per le attrezzature e per gli attori perché poi tutto si svolge all'interno di una stanza una fotografia splendida una colonna musicale un commento musicale che interviene diciamo nei momenti di svolta del film ma più che altro noi ascoltiamo le parole noi ascoltiamo i ragionamenti e i dialoghi sono fantastici quindi c'è una scrittura perfetta secondo me perfetta di di questo di questo film abbiamo questa atmosfera da claustrofobia che viene definita sicuramente dal fatto che la giuria si rinchiude in questa in questa stanza anche abbastanza angusta insomma non c'è molto spazio ma poi siamo d'estate c'è un caldo insopportabile noi vediamo gli attori che insomma hanno le fronti perlate sudano quindi c'è proprio anche l'idea di un confronto fisico anche di una prova fisica che questi personaggi devono affrontare nel momento in cui c'è lo scontro dialettico fra le varie fra le varie parti fra quelle che poi diventano delle vere proprie fazioni la non colpevolezza e la colpevolezza e poi c'è l'utilizzo chiaramente del mezzo c'è una perfetta descrizione all'inizio dell'ambiente e della vicenda quindi già Sidney Omey qui fa capire perfettamente che lui attraverso le immagini è in grado già di di raccontare perfettamente la storia di presentarcela l'inizio è perfetto perché noi vediamo l'aula del tribunale i giurati l'imputato e non lo vediamo subito noi lo vediamo quando i giurati si allontanano a un certo punto abbiamo un primo piano e credo che sia il primo primo piano del film quindi diciamo non la vittima la persona che sarà oggetto del giudizio poi una poi abbiamo una dissolvenza incrociata quindi il volto del ragazzo che si sovrappone ai giurati che entrano nella stanza e abbiamo questa stanza inquadrata dall'alto e poi la macchina da presa che si muove descrive perfettamente l'ambiente e poi piano piano si ferma sui vari personaggi e l'iniziale distanza che noi possiamo percepire da loro piano piano viene sempre più ridotta fino ad essere annullata quando abbiamo i primi piani sempre più frequenti dei dei giurati e l'utilizzo dei primi piani soprattutto in questo film è qualcosa di strepitoso perché oltre al primo piano del ragazzo dell'imputato a me ha colpito molto il momento in cui entra in gioco diciamo si capisce che c'è un momento di crescita forte di questo personaggio che è il giurato interpretato da Joseph Sweeney ed è il momento in cui lui dà il voto per la non colpevolezza lui è stato uno degli undici che inizialmente ha votato per la colpevolezza poi dopo che Rifonda ha espresso tutti i suoi dubbi e ha minato già un po' l'impianto accusatorio ecco che il giurato interpretato da Sweeney si esprime in favore dell'innocenza e lì abbiamo come dire il colpo di scena e ta subito la macchina da presa che lo inquadra proprio nel primo piano e poi questi primi piani diventano sempre più frequenti fino ad avere un momento serratissimo dove anche il montaggio diventa più veloce e abbiamo tutto il senso di ansia di costrizione di non so quando ti mettono proprio alle strette quando siamo nella parte finale del film dove abbiamo ormai un unico giurato che continua ostinatamente cocciutamente a sostenere la colpevolezza ed è il giurato interpretato da Lee Jacob lì diciamo i giurati che ancora insomma cercano di fargli capire che non c'è motivo di continuare a sostenere qualcosa appunto di insostenibile perché tutti i dubbi sono venuti fuori sono esplosi ecco che che il giurato interpretato da Cobb viene messo veramente alle strette e abbiamo tutti i vari primi piani dei vari giurati che praticamente sono come come fossero non so dei dei colpi no questi 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 dardi dialettici che vengono lanciati a mitraglia proprio su di lui e a ogni e a ogni enunciazione corrisponde un primo piano fino a che poi il personaggio di Cobb crolla perché in quel momento poi siccome c'è una vicenda fortemente personale c'è una questione come posso dire conflittuale che riguarda lui e il suo figlio e quindi lì vediamo un caso in cui il pregiudizio può avere anche origine da dei problemi personali da delle frustrazioni personali quindi anche lì quando c'è qualcuno che sostiene una posizione palesemente pregiudiziale palesemente basata sulla sull'ottusità si deve dubitare perché magari uno può avere anche delle motivazioni personali per affermare qualcosa di negativo per affermare un pregiudizio e quindi non qualcosa che ha a che fare con la ragione con il ragionamento ma più con la sfera emotiva e infatti Cobb non riesce più a controllare la sua emotività e crolla ad un certo punto crolla e diciamo che i giurati in quel momento sembrano quasi le voci della sua coscienza del suo mondo interiore che fanno emergere tutte le sue contraddizioni alla fine lui crolla e dice no innocente innocente perché si rende conto che lui con quel ragazzo ce l'ha perché con lui che è un giovane ha identificato il suo figlio e quindi tutte le sue frustrazioni tutto il suo rapporto conflittuale e il suo fallimento anche come padre lo fa ricadere in quel caso giudiziario su quella persona che però non ha nessun tipo di responsabilità ovviamente per quanto riguarda la vicenda di quel giurato e quando lui se ne rende conto ecco che alla fine cede e dice innocente e alla fine abbiamo appunto il verdetto unanime perché qui si deve raggiungere un verdetto unanime o per l'innocenza o per la colpevolezza alla fine anche lui cede e quindi abbiamo l'unanimità per la non colpevolezza e quindi si chiude poi il film e ancora una volta i dettagli sono determinanti perché vediamo i giurati che escono dal palazzo di giustizia anche questa cosa è fondamentale perché la giustizia insomma la si deve fare così è così che si può avere veramente giustizia utilizzando il criterio del legittimo dubbio non in modo distorto ma come lo ha utilizzato in rifonda non a caso è lui quello che viene inquadrato quando esce dal palazzo di giustizia ognuno ritorna alla propria vita ognuno ritorna alla propria quotidianità con tutti i suoi problemi con tutte le sue caratteristiche quindi vediamo per esempio il personaggio di Jack Warden che era il giurato che insomma non gliene fregava nulla di quello che stava facendo lui aveva voglia di stringere i tempi perché doveva andare a vedere la partita quindi vediamo che all'interno della società stavoltenza ci sono anche delle persone orribili che veramente non danno peso alla vita ma danno peso soltanto ai propri interessi personali lui è uno che corre che scappa praticamente dal palazzo giustizia dalla stanza della giuria per andare a preoccuparsi delle proprie cose futili che tanto l'hanno interessato è rifonda si allontana tranquillamente e poi abbiamo il personaggio interpretato da Cobb che scende le scale e lì veramente è un dettaglio che mi ha colpito tantissimo perché c'è questa scalinata da percorrere lui la fa con le mani in tasca con con un'andatura veramente non so di una persona estremamente pensierosa di una persona anche triste malinconica cioè senza inquadrare senza bisogno del volto senza bisogno proprio con la minimica del corpo Cobb riesce a dare fino all'ultimo questa caratterizzazione fortissima del personaggio è un breve istante in realtà cioè non è che c'è una carrellata no c'è semplicemente questa inquadratura fissa della della scanelata dei personaggi che si allontanano e Cobb che appunto scende e c'è queste mani in tasca ed ha veramente quest'aria afflitta e lì capisci che c'è tutto che in quel personaggio c'è ci sono mille pensieri riguardo a quello che è appena successo riguardo al rapporto conflittuale con il figlio al suo fallimento di essere padre c'è veramente tutto ed è ripeto un dettaglio e i dettagli quando sono così curati quando sono così potenti dal punto di vista narrativo fanno veramente il film e questo è un grandissimo film grandissimo film è uno dei migliori esordi cinematografici di sempre di sempre Sidney Nume veramente esordisce alla stragrande quindi io vi consiglio caldamente di vedere di vedere questo film l'interpretazione degli attori manco a dirla è spettacolare ognuno è perfetto nella definizione del proprio personaggio perfetta la fotografia il montaggio la sceneggiatura la sceneggiatura è roba è roba veramente eccellente proprio eccezionale eccelsa sublime non lo so insomma è una cosa magnifica e poi è un film che veramente a me non ha annoiato per niente anche nei momenti in cui si prende un attimo una pausa dove diciamo si fa respirare un attimino lo spettatore non sono assolutamente momenti morti perché aiutano a definire ulteriormente i personaggi in ogni momento c'è la capacità nel racconto nel definire questi personaggi questi personaggi vengono costruiti scena dopo scena momento dopo momento quindi non si butta assolutamente via nulla di questo film non c'è un momento di contemplazione c'è sempre un momento di definizione dei personaggi e tutto questo è semplicemente pazzesco quindi vi consiglio caldamente la parola ai giurati e niente insomma questo è quello che penso di questo strabiliante film grazie per avermi seguito fino alla conclusione commentate condividete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente di questo film se già lo avete visto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti